Eccoci qui amici rossoneri ben ritrovati, di nuovo buon venerdì e buon weekend da Milanello, il canale youtube dedicato al Milan, la casa del Milan, è nato anche il canale cugino di Milanello, Simon Hello, potete andare a iscrivervi e a guardare video, prossimamente farò un blitz anch'io sul canale del nostro Simone, il più giovane youtuber rossonero, quindi iscrivetevi e lasciate tanti like, lasciatevi qui in questo video mi raccomando e iscrivetevi anche sul nostro canale, siete tantissimi, abbiamo superato 56.000 Devo dire che tra una settimana, 10 giorni saremo a 60.000, dritti verso i 100.000 e poi credo che faremo un raduno di Milanello, stiamo studiando un po' di idee, magari fate anche voi qualche proposta, qualche suggerimento che sempre ben accetto. Questa mattina vi ho dato il buongiorno con due notizie, una su Tonali, l'altra in esclusiva sull'interessamento del PSG, abbiamo avuto un contatto con il PSG fronte che si, e poi c'è stata una lettera aperta di Martinelli a, lui l'ha chiamato Donnarumma, Gigi io dico Donnarumma, per me quello è. Quindi se vi va potete andare a vedere questi due video. Ora vi ricordo anche, attenzione, anzi ve l'ho ricordato sulla community, ve lo dico adesso, in un video stasera, ore 21.30, non prendete impegni perché ci sarà una diretta qui su Milanello, speciale mercato, saranno sempre più numerosi le dirette, con l'avvocato del diavole Milanonetti scatenati sul tema calcio-mercato con indiscrezioni, notizie importanti. Quattro news, il format estivo sempre molto apprezzato, quattro news, partiamo subito, intanto avete letto probabilmente l'intervista di Zlatan Ibraimovic oggi sulla gazzetta dello sport, diversi temi, dice forse avrei dovuto chiedere meno al mio corpo, mi spiace aver dato non tantissimo al Milan, comunque era importante tornare in Champions, un passaggio voglio commentare con voi, quello su Donnarumma, lui dice se Gigio va via o no non lo so, quindi lascia il discorso aperto, io gli direi di restare fino alla fine perché può diventare Mr. Milan così come Paolo Maldini, lui dice che secondo me è il portiere più forte al mondo. Diciamo che questo si abbina alle indiscrezioni secondo cui Donnarumma, o meglio Raio l'avrebbe chiesto al Milan di tornare sui suoi passi, di vedere il margine di fattibilità, notizie che noi non ci sentiamo di confermare, però insomma sentendo Ibra il discorso non è ancora definitivo. Ci rifiutiamo però di credere che il Milan dopo aver ingaggiato Mike Mignon possa dire guarda ti piazziamo altrove, rinnoviamo con Donnarumma, quindi mi sembra strano ma vi segnalo le parole di Ibra piuttosto particolari. Anzi abbiamo scoperto oggi, ulteriore conferma grazie alla fonte, che sostanzialmente quello che dicevamo era assolutamente giusto, cioè che lui avesse un accordo con la Juventus, con Paratici. Paratici che sapete è stato esautorato, oggi ha avuto questa conferenza con Agnelli di addio, è arrivato Allegri, Allegri ha detto no io preferisco Scesni, è un mio uomo, lo aveva lui alla Juventus qualche anno fa prima di andare via e quindi lui si è opposto, adesso sta poi al suo procuratore cercare, vedere, di rallacciare i discorsi con questa nuova Juventus senza Paratici con Cherubini e con Allegri in panchina. Però problemi suoi, come vedete io non ne parlo molto di questo ex giocatore del Milan, ex ufficialmente tra pochi giorni il 30 giugno. La seconda news riguarda Calabria, c'è stato ieri un incontro a casa Milan tra il suo manager e la dirigenza del Milan Maldini Massara per parlare del rinnovo del contratto che è scadenza ad 2022, quindi va rinnovato assolutamente, lui attualmente percepisce 1.100.000 euro all'anno, ha chiesto 2, il Milan è arrivato a 1.500.000 euro, 1.600, quindi dando 500.000 euro in più a stagione. C'è ancora margini di circa 400.000 euro, 500.000 euro, che per noi sono tanti, per il Milan non tantissimi. E però il modus operandi del Milan è questo, se tu mi chiedi Totti non ti do subito Totti, ti offro meno, cerchiamo di arrivare al dunque, magari ci troviamo in una misura intermedia così che tu hai qualcosa di più rispetto alla nostra offerta, dall'altra parte noi risparmiamo qualcosina, che credetemi alla lunga nell'economia di una squadra nel bilancio può essere significativo, risparmiare qualcosa qui, qualcosa là, pagare magari questo giocatore non subito tra un anno, rateizzare il riscatto di tomori, e quindi il Milan secondo me sta facendo le cose per bene, in un periodo in cui i soldi non cadono dal cielo, nel mondo del calcio spesso cadevano, devo dire che è giusto pensare a tutti i particolari, perché si può alla fine migliorare il tesoretto, perché il Milan deve fare calciomercato. A proposito di calciomercato in entrata, ci sono due notizie, oggi ho avuto un contatto con l'entourage di Giroud, per capire a che punto siamo, e quando arriva questa fumata bianca, mi è stato detto sostanzialmente che prima il Milan deve chiudere definitivamente anche i dettagli, i mari dettagli sulla rateizzazione di tomori, annunciare, dopodiché ci potrà essere l'annuncio, aggiungo io questo, ecco, di Giroud. La linea però, la strada è percorsa e siamo quasi all'arrivo, mi stupirei molto per intenderci se alla fine Olivier Giroud non vestisse la maglia del Milan. Accordo su due anni, lui voleva due anni, ma il Milan è favorevolissimo a dargli due anni, perché con il decreto crescita, se fai almeno due anni lo puoi sfruttare, altrimenti non se ne può fare nulla. Quindi due anni per Olivier Giroud, però come tempistica prima Tomori e poi Giroud. Anche perché se Milan annuncia prima Giroud, potrebbe essere visto male dalla dirigenza del Chelsea, stai prendendo un giocatore che si libera me a zero, mi stai chiedendo l'ascolto su un giocatore o comunque di rateizzare. Per questo, non lasciando nulla al caso, e Milan ufficializzerà forse oggi, domani, vediamo la tempistica, dovrebbe essere in questo weekend il riscatto di Tomori, perché comunque il discorso è tutto fatto. E poi sarà, a questo punto credo la settimana prossima, quella dell'ufficializzazione di Olivier Giroud, che andrà a farsi i mondiali, ha vinto tutto, per un maresse incredibile, e a me piace molto questa idea. La quarta notizia, qualche giorno fa siete stati ottimi profeti, qualcuno di voi mi aveva chiesto in una live, ripeto, ne faremo sempre di più stasera, ore 21.30, sintonizzati qui, perché ci sarà la speciale calciomercato, se poteva tornare d'attualità Junior Firpo. Io vi avevo detto, mi sembra difficile, piace, però una volta che dici no al Milan, non ti richiamiamo più. In realtà, sembra che il Milan avesse accettato il no del tempo. A gennaio, il giocatore aveva detto no, perché gli era appena nato il figlio, e quindi voleva rimanere lì a Barcellona, un periodo difficile anche per gli spostamenti, quarantena, tamponi, eccetera, eccetera, e quindi lui aveva fatto quella scelta di vita. Ma il Milan non l'ha percepito, da quello che ho capito, come un no al progetto. Anzi, c'era l'idea di risentirsi, ebbene il Milan è tornato alla carica per Junior Firpo, giocatore di 25 anni, li farà ad agosto, 1.84, 2024 la scadenza con i Blaugrana, dove non ha trovato molto spazio. In questa stagione, sette presenze, un gol e un assist, con sei partite di Champions League, in realtà però, se andiamo a vedere, le presenze da titolare sono pochissime. Quindi, complessivamente, è stata la riserva delle riserve. Un giocatore che predilige giocare a sinistra, quindi sarebbe il vice Teor Nandez perfetto. All'occolenza può giocare anche a destra, dove già abbiamo Calulu, quindi potrebbe sistemare due caselle in una. Il Barcelona vuole monetizzare perché vive una situazione finanziaria non facile, il Milan però preferirebbe avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Ormai funziona un po' così, per non esporsi economicamente subito e valutare il giocatore, toccarlo con mano e eventualmente riscattarlo. Che è un po' la formula che il Milan rivorrebbe anche per Brian Diaz. Nuovi contatti anche nelle ultime ore con la dirigenza dei Galacticos, con Ancelotti che dovrebbe dare alla fine il benestare a questa operazione in uscita definitiva. con forse l'obbligo di riscatto su Brian Diaz. Quindi Ibra che dice Gigio, vediamo, io gli consiglio di restare, forse non è detta l'ultima parola. Per me è detta, addio, arrivederci e acqua passata. Calabria ballano 400-500 mila euro, ma l'affare si farà, stati tranquillissimi. Tra dieci giorni il nuovo Summit con la sua dirigente, con il suo manager. Di Giroud, prima l'ufficialità di Tomori con il comunicato ufficiale solenne, poi si fa Giroud e infine Junior Firpo che torna d'attualità se il Barcellona però concede il giocatore con una formula vantaggiosa per il Milan. Che cosa ne pensate? Scrivetemelo qui sotto di queste quattro notizie, lasciate tanti like, iscrivetevi in questa zona, venite a seguirmi su Instagram, Andrea Longoni QSUS, iscrivetevi al canale di Simone, Simon Hello, cugino di Milanello, e stasera ore 21.30 tutti in poltrona, seduti dove volete, in giro, con il telefonino o il tablet o il PC a seguire la diretta dell'Avvocato del Diavolo, speciale mercato. Ciao, forza mina!